ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto e se anche tu come me lo sei iscriviti al canale attiva la campanella perché pubblico un video al giorno oggi ti parlo di moto guzzi v85 tt prima però ti chiedo se pensi di vendere la tua moto di cliccare qui sul link che c'è sotto in descrizione e parliamone la moto guzzi appunto v85 tt del 2024 viene rinnovata perché in concomitanza di ecma 2023 che si è chiusa ieri 12 novembre 2023 e purtroppo quest'anno non sono potuto essere presente perché l'amico luigi con cui eravamo d'accordo di andare non stava bene quindi sarà per l'anno prossimo il rinnovamento della moto riguarda in particolare le linee della moto che si presenta ora sicuramente più moderna ma senza perdere le sue caratteristiche di storicità col profilo ben noto profilo del motore avu a caratterizzarne l'estetica in questa versione che andiamo a vedere l'acronimo tt indica la suonatura tutto terreno e sono cambiati coperchi delle teste proprio perché dal punto di vista meccanico è stata adottata la fasatura variabile delle valvole per ottimizzare l'alzata in funzione del regime di rotazione del motore e questo ha permesso di incrementare la potenza del motore di 4 cavalli per essere precisi e la risposta al gas un altro aspetto importante il miglioramento della protezione aerodinamica perché è stato ottenuto con un nuovo parabrezza che è stato ottenuto un parabrezza nuovo con una nuova sagoma e che si può regolare manualmente su cinque posizioni diverse con un'escursione di 70 mm di 7 cm dalla posizione più bassa a quella più alta quindi sicuramente da questo punto di vista c'è stato un miglioramento anche i paranami i paramani scusa sono più più ampi quindi più protettivi poi è presente nella parte sull'interiore del serbatoio una cover la chiamano cover una copertura per ridurre il flusso d'aria sul busto sul mento del pilota quindi grande attenzione appunto questi aspetti di comodità per l'utilizzo della moto non solo in fuoristrada anche se leggero come appunto previsto dal tipo di moto ma anche nell'uso sia quotidiano ma anche appunto nell'uso poi su autostrada insomma quasi il tipo di percorso perché è una moto versatile a questo punto direi di vedere la moto in questa immagine che rappresenta quindi nuovi colori nuove insomma grafiche più gradevoli se vogliamo sicuramente accattivanti che caratterizzano questa nuova proposta di moto guzzi e partiamo dal motore che è un bicilindrico avuto i 90 gradi quattro tempi la cilindata il tot 153 centimetri cubici dove valvole per cilindro e raffreddato ad aria il motore sostanzialmente sempre lo stesso la potenza massima abbiamo detto aumentata di 4 cavalli siamo passati da 76 cavalli 80 cavalli dell'attuale versione del motore a 7.750 giri al minuto la coppia massima era 82 ogni ton metro nel 83 quindi praticamente la stessa un piccolo incremento a 5.100 giri al minuto però già disponibile 90 per cento dai 3.500 giri quindi una coppia che si sente già a basso regime del motore il telaio poi un tubolare in acciaio ad alta resistenza mentre la sospensione anteriore formata da una forcella telescopica idraulica steli rovesciati da 41 mm regolabile nel precarico della molla e in estensione con escursione di 170 mm il freno a doppio disco da 320 mm della brembo con le pinze della brembo monoblocco nuove pinze della brembo d'attacco radiale quattro pistoncini la sospensione posteriore poi formata dal forcellone a doppio braccio in alluminio scatolato con un monomotizzatore laterale si trova sulla destra si vede qui nell'immagine regolabile nel precarico della molla con un pomello escursione che in questo caso di 170 mm della ruota ricordo naturalmente che la trasmissione cardanica il freno posteriore poi ha un formato da un disco da 260 mm con la pinza flottante due pistoncini le ruote a raggi questa versione sono rispettivamente 19 pollici l'anteriore 17 pollici al posteriore molto belle il serbatoio da 23 litri quindi generosa la sua capienza il peso secco di 209 kg 230 se non vado errando a pieno in ordine di marcia naturalmente 230 kg quindi tutto sommato un peso direi non troppo rilevanti quella moto molto interessante naturalmente il prezzo non è stato ancora stabilito è stato stata presentata proprio in questi giorni ad eic ma se ti è piaciuto il video metti il like se non ti è piaciuto metti design ma iscriviti al canale e attiva la campanella prima grazie non ti costa nulla secondo faccio un video al giorno sei sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata